direi di passare alla domanda che abbiamo fatto all'organizzatrice, cioè a lei che ha portato a Mesagna, grazie in accordo con il gruppo di azione locale Terra de Messapi, l'associazione GP e il consorzio di difesa questi 25 testate giornalistiche sul territorio ascoltiamo, anche perché è molto significativo anzi, vi invito proprio ad ascoltarla per capire il perché vengono dal responsabile dalla coordinatrice e quanto occorre per poter mettere insieme e capire anche l'importanza di questo gruppo che si muove per vedere e soprattutto essere ambasciatori verso le proprie terre di ciò che hanno visto da questa parte. Prego la regia di Manarino all'intervista. Le prime impressioni, riassumiamole dalle tue parole di tutti i nostri partecipanti all'Educational Sì, una cosa è andare a Milano a mostrare le nostre foto le nostre belle foto sulle nostre spiagge la nostra enogastronomia, far vedere che il Salento è bellissimo e un'altra cosa invece è portare qui dei giornalisti che vedono con i loro occhi quanto sia bella la nostra terra si stupiscono moltissimo intanto nel vedere i nostri centri storici puliti ordinati e poi sono rapiti dalla nostra enogastronomia Si può dire che il Salento, notizia che ha aperto un po' la Borsa Internazionale del Turismo 2013 di quest'anno, è il territorio principe, anzi re, di tutti i territori e le location italiane Orgoglio salentino, orgoglio pugliese, l'orgoglio che dovremmo portare e mettere un po' in tutte le nostre quotidianità le attività lavorative Sì, il turismo deve diventare il settore trainante dell'economia io dico sempre che non lavoro per nessuno, lavoro per i miei figli, ne ho tre e voglio costruire per loro, proprio per i miei figli, una terra migliore dove un domani possano scegliere se rimanere qui nel Salento perché c'è lavoro oppure andare via, ma dovrà essere una scelta, non dovranno emigrare come i nostri padri Siamo sulla buona strada? Penso proprio di sì, andiamo avanti e non ci rendiamo mai